Ben ritrovati, il nostro viaggio tra le zone interne della Campania riparte dalla Valle Caudina, questo territorio di frontiera tra l'Irpinia e il Sannio. Siamo a Montesarchio, paese di poco più di 13 mila abitanti, a differenza degli altri centri di questo territorio. Montesarchio non ha conosciuto il fenomeno dello spopolamento, anzi questo comune col passare degli anni ha visto aumentare il numero dei suoi abitanti. È un paese ricco di storia, anche di testimonianze molto significative. La leggenda narra che qui si è vissuto addirittura Ercole e si racconta che Ercole abbia sconfitto il leone in una grotta del Monte Taburno, appunto una delle 12 fatiche di Ercole. I simboli storici di questo paese, di Montesarchio, sono sicuramente il castello e la torre dove è stato rinchiuso anche il patriota Carlo Poerio, ma è significativo il museo archeologico del comune di Montesarchio dove è custodito il vaso di Asteas, un reperto archeologico davvero molto importante. Oggi Montesarchio è un attivo centro commerciale che l'ha fatto diventare un punto di riferimento di tutta la Valle Caudina che conta quasi 70.000 abitanti, ma il sogno, il progetto della città caudina non è mai decollato. Il sindaco di Montesarchio è Franco Damiano, esponente del Partito Democratico che guida l'amministrazione comunale dal 2013. Sindaco, intanto come si spiega che questa realtà di Montesarchio non ha conosciuto il fenomeno dello spopolamento, anzi col passare degli anni questo paese ha visto crescere il numero dei suoi abitanti? Per ragioni innanzitutto buongiorno a tutti quanti i telespettatori che ci guardano e a voi un ringraziamento per essere qua. Ma il primo dato è storico, Montesarchio è un paese che ha sempre avuto questa dinamicità anche anagrafica di persone che ci passano, che si fermano, che vengono qui e soprattutto la centralità all'interno della nostra Valle Caudina è uno dei fattori più importanti rispetto al tema che avete sollevato adesso. C'è questo progetto della città Caudina che nel corso degli anni è diventato quasi un sogno, per alcuni servizi è stato attuato, però che cosa manca ancora? Noi ci siamo sforzati a fare innanzitutto l'unione dei comuni, formalmente costituita, quindi siamo un ente locale a parte, dovremmo adesso riempirla di contenuti rispetto a due questioni di fondo, una nei confronti della regione che ci deve guardare come un'area unica e questo non ancora lo si è fatto e stiamo tentando in tutti i modi attraverso anche la redazione di un piano strategico di area da poter fare. E poi l'annosa questione della divisione in due province, la nostra Appia ci taglia a metà, ne abbiamo Rocca, San Martino, Cervinare e Rotondi che sono provincia di Avellino e gli altri comuni fanno parte della provincia di Benevento, i comuni della città Caudina. Questo è un dato che ci mette in difficoltà rispetto anche agli assi strategici che la regione ha fatto e che ci vedono in due asset diversi, c'è l'asset Irpino e l'asset Caudino-Sannita. Questa è una cosa che non potrà più andare avanti in questo modo, dobbiamo recuperare questa condizione, stiamo lavorando insieme alla regione per fare un unico piano d'aria che ci consenta di avere servizi comuni. C'è questa questione delle infrastrutture che resta sostanzialmente aperta, soprattutto per quanto concerne i collegamenti viari, si è sempre parlato di questo asse Benevento-Caserta che potrebbe favorire tutta la Valle Caudina, perché non si riesce a dare una svolta da questo punto di vista? Noi abbiamo lavorato già nel precedente governo con i nostri parlamentari a una ridefinizione di queste cose insieme anche alla regione. Noi abbiamo fondamentalmente tre questioni aperte, una sulla ferrovia Benevento-Cancello, che la ritengo quella più importante, il passaggio a Rite Ferroviaria Italiana e RFI, che riteniamo ormai non più sostenibile il dato che la regione mantenga questo collegamento, in quanto noi da Cancello per arrivare poi ad Afragola, cioè alla ferrovia veloce, è già collegata. Per cui se noi passassimo la ferrovia Benevento-Cancello ad RFI avremmo fatto già un grande passo in avanti, su questo diciamo che c'è un lavoro avviato da parte della regione con il nostro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per regolare questo passaggio. Prima lo si fa, meglio è, perché Rite Ferroviaria Italiana ha tutto l'interesse a portare passeggeri su Afragola e potremmo essere avvantaggiati su questa storia. C'è l'annosa questione del Benevento-Caserta, il vecchio progetto, abbiamo lavorato per stracciarlo, per fare uno straccio Valle Caudina, collegamento non più sui giardinetti lì a Marcianisi ma per portarlo su Nola e su questo Anas è impegnata, sul quinquennale Anas è ancora in corso, c'è uno straccio che si chiama proprio Valle Caudina, su cui si sta realizzando un progetto. Abbiamo collegamenti con l'area progettuale di Anas, dobbiamo fare in modo tale da poterlo rifinanziare nel prossimo quinquennale per mandarlo in onda e risolvere questa angustità della Valle Caudina rispetto all'area della provincia di Napoli e della provincia di Caserta. Certo, essendo un territorio di frontiera c'è questa problematica dei collegamenti che purtroppo si trascina da tanti anni. Poi c'è tutta l'altra questione dell'intercollegamento del fondo Valle Sclero che arriva giù alla rotonda di Paolisi, quello scambiatore lì a Paolisi che è l'ingresso della Valle Caudina. E c'è l'altra questione della campizia di Piano Tardine che anche lì si innesta, arrivano sullo stesso scambiatore lì giù in Valle Caudina. Anche quello in termini di completamento e collegamento è finanziato per 80 milioni di Euro il terzo troncone che arriva ad Altavilla Erpina e poi mancherebbe il quarto che dovrebbe arrivare a Piano Tardine. Per cui questo asse dalla fondo Valle Sclero che ci collegherebbe con la Telese Caglianello e l'altro tratto con la Campizia Piano Tardine che ci collegherebbe ad Avellino, all'area di Tardine di Avellino, insieme al collegamento in Pedemontana, questo è l'impegno che ANAS ha preso, non di uno scorrimento veloce a quattro corsie, ma almeno di un raddoppio dell'ANAS in termini di Pedemontana e collegarci con Nola e quindi con l'autostrada, sarebbe per noi uscire da una condizione di isolamento in un'area che è, posso dirlo in maniera così storica, abbandonata politicamente da questo punto di vista e quella che ha dato sempre più dinamicità anche in termini anagrafici. Noi continuiamo a crescere anche in termini anagrafici rispetto ad altre aree invece che hanno visto investimenti giusti per la verità sulla nostra area beneventana, ma anche quest'area ha bisogno di essere ammodernata sia da un punto di vista di treni che da un punto di vista di trasporti. Lei ha toccato un tasto dolente, quello della classe dirigente, perché la Valle Caudina insiste su due province, Avellino e Benevento, eppure non è mai riuscita ad avere una rappresentanza forte nelle istituzioni che contano. Perché secondo lei? Perché la divisione in due province è stata per noi il colpo ferale, quella di aver avuto, siamo diventati abice di due province diverse, quindi due parti finali, sia per quella di Avellino, la Valle Caudina è considerata una parte finale, sia per la provincia di Benevento la stessa cosa. Quindi per questo lo sforzo della città Caudina è di redazione di un piano strategico unitario tra le due province e soprattutto il ricepimento da parte della regione di quest'area come fatto unico. Quindi noi non possiamo stare con ambiti sociali diversi, con anche presidi di sicurezza, carabinieri, polizia, commissariato diversi, per quanto riguarda servizi territoriali diversi. Noi dobbiamo essere identificati e immaginati come un'area comune, insomma da qui per arrivare a San Martino sono 500 metri di strada, per cui un chilometro di strada siamo in provincia di Avellino, la stessa cosa per Cervinare, le nostre famiglie interagiscono, siamo un unico popolo, il popolo Caudino. Questo però avrebbe bisogno di avere una massa critica e avere soprattutto strumenti identificati dalle autorità superiori, regione e Stato che ci vedono praticamente un'area comune. Certo, intanto Sindaco si parla tanto delle aree interne, di questa nuova vertenza che soprattutto i vescovi di questo territorio hanno rilanciato, però mi pare di capire che la Valle Caudina sia un'area interna un po' diversa, insomma ha delle specificità che la rendono diversa dal territorio del Fortore. Noi siamo un'area di cerniera importante tra le aree interne del nostro comprensore, che sono in provincia di Avellino e Benevento, il Fortore e l'Alta Erpinia, rispetto all'area costita e all'area flegrea. Non siamo un'area interna, siamo un'area di collegamento, dobbiamo e dobbiamo sfruttare bene questo ruolo. Montesarchio lo fa storicamente, ma questo non basta. Lo ha fatto storicamente perché insiste sull'Appia, perché c'è una vocazione commerciale, c'è una vocazione terziaria molto forte. In un momento come questo, oltremodo di grande crisi proprio per questo tipo di attività, che non sono assistite in maniera adeguata dalle istituzioni, gente che si alza la mattina e ha le proprie attività, Mosacchi è piena di queste attività. Io da questo faccio un appello, innanzitutto un ringraziamento a chi ha attività e sta facendo sacrifici enormi per vivere e andare avanti in maniera onesta. C'è questa emergenza Covid, come vi sta condizionando e come la state affrontando? Devo dire che Montesarchio rispetto all'emergenza, sia nella prima fase che nella seconda fase, lo sta affrontando in maniera responsabile, molto responsabile. Il numero di casi è sotto gli occhi di tutti, è un dato ormai acquisito. Sia nella prima fase avevamo pochissimi casi. Adesso rispetto alla media generale ci difendiamo in maniera sostanziale, ma soprattutto grazie all'impegno dei cittadini che osservano in maniera precisa le indicazioni che vengono date. È chiaro che ci sono poi dei casi singoli che sono delle eccezioni e questi dovrebbero essere da parte delle forze dell'ordine guardati con grande attenzione. Ecco, intanto, Sindaco, lei è un autorevole esponente del Partito Democratico. Il rapporto con la Regione, come è stato finora? C'è stata la giusta attenzione da parte del Governatore De Luca verso questo territorio? Guardi, lo dico con grande soddisfazione, lo dico come Sindaco di questa comunità, della comunità di Montesaccio, che è la più grande della provincia di Benevento. Noi abbiamo fatto un grande lavoro di bilancio, di realizzazione di obiettivi di finanza locale con la nostra struttura comunale, grazie a grandi finanziamenti che sono stati dati dalla Regione. Se non avessimo fatto questo, molto probabilmente il lavoro fatto sul piano finanziario per mettere i conti a posto non saremmo riusciti a realizzarlo. Soprattutto per quanto riguarda le questioni ambientali, abbiamo due questioni molto insistenti sul nostro territorio, gravi, che sono le vecchie discariche. Su una stiamo facendo già la bonifica, sull'altra abbiamo caratterizzato adesso, in questi giorni, abbiamo finito il lavoro, quindi porteremo alla Regione la questione della bonifica dell'altra discarica, quella dell'emergenza dei fiuti proprio regionale. e le fognature, investimenti importanti per il centro storico, abbiamo lavorato su grossi investimenti grazie a un rapporto molto buono con la giunta regionale, che continuerà soprattutto anche nel prossimo quinquennio e darà secondo me grandi risultati a questa comunità, anche in termini di intervento. Adesso vedremo i frutti anche di una grossa programmazione. Montesarchio è sicuramente un paese ricco di storia, ci sono testimonianze storiche e monumentali davvero eccezionali, cito il vaso di Asteas che è nel Museo Archeologico Nazionale. Secondo lei si può sfruttare meglio dal punto di vista turistico e culturale questa grande opportunità? Guardi, quando siamo arrivati come amministrazione nella prima legislatura avevamo il museo che aveva difficoltà ma addirittura ad essere aperto, non si conosceva bene l'esistenza. La torre borbonica era assolutamente chiusa e ci siamo sforzati attraverso anche investimenti nostri, come fatto di comune, di mostri importanti e di un colloquio molto fattivo con il MIBACT, con la nostra struttura del museale. Abbiamo realizzato condizioni per cui adesso abbiamo un museo che funziona e che è recepito anche dalla pubblica opinione come un museo importante, è l'unico museo nazionale nella nostra provincia, non ci sono altri musei nazionali. Dovremmo lavorare molto di più, abbiamo fatto un programma, purtroppo le condizioni Covid in questo momento non si può accedere per ovvie ragioni, speriamo di ripartire nel 2021 sia con investimenti di accesso al nostro museo sia in termini di qualità della proposta, in termini di mostre e di visitazione. Lei è stato eletto sindaco per la prima volta nel 2013, quindi sono quasi 8 anni che guida questa comunità e il rapporto con la cittadinanza come è stato? Io sono, lo dico sempre, un figlio del popolo, sono una persona normale, cerco di dimensionarmi tutti i giorni con questa condizione, non mi sono mai messo grilli nella testa, lavoro forse delle volte in maniera anche silenziosa senza troppo scoppiettare e ritengo però che un amministratore serio, soprattutto in questi momenti che debba essere fattivo e silenzioso e questa è la condizione su cui io lavoro e ho un buon rapporto con i miei cittadini insomma io ci vogliamo bene. Allora per chiudere sindaco questa nostra intervista, qual è il suo sogno nel cassetto per Montesarchio per il futuro di questa realtà? Il mio sogno è che innanzitutto finisca questa pandemia che ci ha veramente portati in un'altra dimensione sociale, economica e che possa riprendersi quanto prima e per cui ho detto il saluto, la mia vicinanza a tutte le famiglie di Montesarchio e della Valle Caudina per tutto questo che è successo. E soprattutto l'augurio alla mia comunità che nel 2021 possa riprendersi bene attraverso investimenti e attraverso soprattutto una condizione anche economica e finanziaria per le nostre famiglie, le nostre famiglie, un augurio alle nostre famiglie e il mio sogno è che si possa riprendere bene. Montesarchio questo lo può fare con grande patos perché è una realtà che ha sempre lavorato da sola, senza essere assistita. Montesarchio è un paese che ha vissuto senza essere assistito e questo è l'orgoglio dei Montesarchesi. Con questo spirito io ritengo che il sogno sia quello di far riprendere bene la nostra comunità. Allora Sindaco, in bocca al lupo per il suo lavoro naturalmente e grazie per questa intervista. Grazie mille anche a voi. Allora ringrazio intanto per la parte tecnica Orlando Matarazzo e grazie naturalmente a quanti ci hanno seguito. Buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.